C'è il cammino! Sì? C'è il cammino! Sì? Attendo ordini! Presto, presto! Attendo ordini! Presto, presto! Attendo ordini! Attendo ordini! Sì, signore! Sì, signore! Pronti! Sì, signore! Attendo ordini! Ci mettiamo in marcia Unità di combattimento pronta Siamo sulla strada Pronti Siamo sulla strada Sì Siamo sulla strada Sì Attendo ordini Fireshots Jetzt Presto, presto Sì Attendo ordini Sì Già in cammino Unità di combattimento pronta Io volo Pronti Siamo sulla strada Unità di combattimento pronta Attendo ordini Già in cammino Batterie Siamo 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 Sì 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 Signore Presto 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 Pronti Siamo sulla strada Unità di combattimento pronta Unità di combattimento pronta Unità di combattimento pronta Siamo sulla strada Pronti 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 Presto Presto Sì signore 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 Unità di combattimento pronta ci mettiamo in marcia attendo ordini si signore ci mettiamo in marcia Grazie a tutti. 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 . Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. . . . . . c'è un cammino c'è un cammino all'attacco c'è un cammino 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 go 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 c'è un cammino 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 no su signori hai 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 un attimo è stato in è stato un attimo I love a coppa, ciao Come on Super 5 Attendo ordini Atmarsh I love a coppa, ciao I love a coppa, I love a coppa, ciao 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 I don't think it's bad I'm going to have it Eh, ti fai nello! Ma perchè ti avviso! Si vanno! Ho baiate, diamo sulla strada! Sì C'è un cammino 1-1 Sì 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 Grazie a tutti. sì signore e lo rai è arrivato infatti insieme Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Unità di combattimento fronta. Siamo sulla strada. Sì. Sì. Unità di combattimento fronta. Sì. Sì. Presta, presto. Sì. Sì, 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 sì. Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. 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 Yeah. 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 Grazie a tutti. Yeah. 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 Grazie a tutti.